Ecco il Palazzo di Cemento e questi sono gli operai, gli scavatori all'opera. Per ora si tratta solo della recinzione, ma il cantiere ormai comincia a prendere forma. Mai più a Librino un'altra struttura come il Palazzo di Cemento. Dopo l'operazione Sgombro, adesso il piano di recupero. Cosa chiedono le scuole, le associazioni di volontariato, le parrocchie e gli abitanti del territorio? Presidi dello Stato in generale, uffici comunali e servizi nello specifico. Sulla carta il cantiere dovrebbe durare due anni, ma le associazioni del territorio non si fanno illusioni. Guardando e visitandolo sappiamo che è un lavoro difficile, complicato. Però noi siamo fiduciosi perché finalmente è l'inizio di un percorso, una rivalutazione prima di tutto del quartiere e dei suoi abitanti. La storia del Palazzo di Viale Moncada 3 comincia agli inizi degli anni Ottanta. Realizzato grazie al piano di zona di Librino sulla base della città Giardino, al suo interno erano previste attività commerciali, uffici ed abitazioni. Poi la ditta Finocchiaro, responsabile dei lavori, fallì pochi anni dopo, lasciando la struttura in queste condizioni. Se il recupero del Palazzo di Cemento ormai è giunto una svolta, lo stesso non si può dire per tante altre strutture di Librino. Io qui mi trovo davanti al Teatro Moncada e vedete bene alle mie spalle le condizioni in cui si trova la struttura. Quindi gli abitanti chiedono sì al recupero del Palazzo di Cemento, ma non vi dimenticate del resto del quartiere. Da Biano Scala è tutto, per Ultima Tg vi restituisco la linea.